e ragazzi qua siamo al paintball di Cisiano, vi intervisto, cosa ne pensate di questo posto? E' troppo bello, finalmente ho la possibilità di mettere in patica le mie cose, è mia vita e che cosa pensi di fare allora? Allora, sparare, sparare, hai i miei nemici Se io con l'indice della mano destra, vedete, schiaccio, vedete che di qua esce, c'è il cerchiolino rosso, voi collegate il rosso al pericolo, così il fucile si spara Rimettetelo, quando siete fuori dai campi, mi raccomando, tutte e due le scetture, inserite, puntateli in basso e non tenete dentro Non è per spaventarti, ma il colpo di questo è molto bravo, potete prenderlo Avete delle masche apposta, sono fatte apposta sotto il vetro, non si possono spaccare Cosa più importante, assolutamente, quando siete dentro al campo a giocare, non dovete mai coprire la masche Anche se fa caldo, non vedete uscite, quando siete fuori dai campi Questo perché? Perché i colpi? Poi avete una bombola Questa va caricata ad aria ogni, pressa poco, due o tre partite, dipende poi da quanto sparate Comunque non deve andare sotto, vedete Non, vi faccio alcune Iniziamo a fare una bombola Iniziamo a fare una bombola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forza ragazzi. Allora, qua è un gioco di eliminazione diretta. Cosa vuol dire? Una squadra deve riuscire ad eliminare tutta l'altra squadra. Ok? Non si match a squadra in comunità. Più o meno, sì. Però. Allora, si parte al raggruppamento. Cosa vuol dire? Che una squadra starà dietro tutta. La squadra è dietro a un gonfiabile. L'altra squadra è dietro a un gonfiabile opposto. Quindi una squadra dopo un po' che accompagno dentro, una squadra... L'avete un rischio Gianfranco. Fino al mio fischio non vale correre, nascondersi, infatti niente. Dovete starmi pieni. Un ginocchio. Quando fischio potete partire. Ok. Allora, per eliminare un avversario basta colpirlo. Ok? Una volta che l'avversario... Una volta che viene colpito e lascia giù la giannice gialla, è morto. Alza la mano, alza la mano e desce. Finita la partita. Finché non si finiscono in giro. Finché non si finisce. Non ne rimane solo una. Non ne rimane solo una. Non ne rimane solo una. Vediamo la squadra che riesce a vincere nel meno due. Ok. Non eliminiamo tutti ma batto anche due. Guarda come vanno a roma. Prendere due e inizio. Non lo facendo. Se una si protegge davanti a un'altra, batti noi e batti entro la. Non lo faccio più risicare. Qua non lo dupi. Sì, non lo dupi. Sai che è più... È di bambi. Cazzo faccio con gli occhi anni. Vecchio. È come King. Però gli nemici. Pronti? Possiamo riparne le armi? No, se dovete entrare in campo. Se no, dopo dite che pesano. Ok. Andiamo? Andiamo in campo. Allora prendete pure l'arma. Io mi prendo l'ombrello. Ma non per me. Mi piacciono. A noi... Mi piacciono. A noi... E. A noi che vi... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.